Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale per un nuovo tutorial inerente all'utilizzo di FreeCAD. Come vi avevo detto nel video introduttivo, non faremo dei video che prenderanno in esame le varie funzioni di FreeCAD una per uno, a parte le basilari che ho già spiegato nell'introduzione, ma affronteremo la creazione della valvola che vedete come assieme ora sul video, pezzo dopo pezzo per arrivare a fare degli esempi pratici che affronteranno le varie tipologie di lavoro volta per volta. Questa è la nostra valvola, la nostra valvola è composta da un insieme di particolari, quindi dalla semplice rondella al pezzo più complesso. Le rondelle magari le faremo, visto che sono molto semplici, insieme ad altri particolari. Oggi voglio partire da questo particolare, perché si sposa bene con ciò che ho spiegato nell'intro, quindi sottrazione e addizione di solidi. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Come vedete, si tratta di un cilindro diametro 58 alto 2 mm, ossia 9-7, e un cilindro diametro 52 alto o 7 o 9, a seconda di come lo si voglia guardare, che andranno addizionati l'uno all'altro e ai quali dovrò sottrarre un elemento sferico. Quindi è esattamente ciò che abbiamo affrontato nell'intro. Ora, fatevi uno screenshot di questo disegno, stampatevelo, mettetevelo a video mentre seguite il tutorial, in modo tale da seguire tutte le mie indicazioni man mano che costruirò questo elemento. Ora, me lo sposto, me lo metto da parte. Prima cosa, crea nuovo, diamogli un nome, quindi salviamo il nostro file, diamogli un nome, visto che sono numerati particolare numero 3, onde non perdercelo, e andiamo nel sottomenu part, laddove possiamo andare a lavorare con i nostri solidi. Visualizza, origine degli assi per semplicità di calcolo. Quindi, creiamo i primi due cilindri, cilindro, e lui lo crea. Io clicco sul cilindro e vado a vederne le proprietà. Il primo è un diametro 58, 58 diviso 2 fa 25, 49, 29, quindi radius 29. Come vedete me lo amplia sulla mia superficie di lavoro. Io vado a premere l'icona menu, visualizza tutto il contenuto nello schermo, e lui automaticamente mi dà uno zoom pari alle dimensioni massime degli elementi che ho costruito. Abbiamo detto che il raggio è 29, ma l'altezza è 2, cioè 9, meno 7. Premiamo il tasto centrale e spostiamo leggermente la vista, e andiamo a modificare, giusto per vedere ciò che stiamo facendo. Nel premere 2, come vedete, creo il mio cilindro, molto simile a una moneta. Ora creo un secondo cilindro, ecco che lui lo crea sempre nel centro, con una delle due basi esattamente coincidente allo 0 del nostro sistema di assi cartesiani, e lui di default il cilindro me lo crea di diametro raggio 2, altezza 10. Attenzione che lui mi crea un cilindro, ma continuo a evidenziarmi il cilindro precedente. Quindi vado a cliccare o sul cilindro alla sinistra dello schermo, come è scritto, oppure, come vedete, posso cliccare direttamente sul cilindro che mi interessa. Questo non sarà raggio 2, ma sarà raggio 52 diviso 2, 26, e altezza 9 mm. Ora, di questi due cilindri io devo fare un corpo unico, quindi premo su uno dei due, e poi tasto control della tastiera, e premo sull'altro. Ripeto, posso farlo sia qua che qua, tasto control, e tasto control, vedete che gli evidenzia. Premiamo il tasto che esegue un'unione di forme, e automaticamente trasforma i due cilindri in un elemento fusion, che se io lo espando, vedrò essere composto appunto da due cilindri. Bene, l'elemento fusion si trova con la base, diciamo quella più larga delle due, in corrispondenza con l'origine degli assi. Se io vado a crearmi un cilindro, vedete che lui il cilindro me lo crea esattamente con il centro, scusatemi, se io vado a crearmi una sfera, lui la sfera me la crea esattamente con il centro della stessa, in corrispondenza dell'origine degli assi. Come vedete, la mia sfera è sfalsata rispetto a questo punto, ossia questa base, di 12,65 mm più 7. Allora, cosa facciamo? Prima cosa, andiamo a prendere l'elemento fusion, rivediamolo nel disegno, se non l'avete stampato, male, però il centro della sfera è qua, ed è quotato a, io ho detto 7, in realtà, 12,65 mm più 9 mm, la distanza tra il centro della sfera e la base del nostro particolare. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere l'elemento fusion, apriamo la cartella placement, andiamo in posizione, guardate l'asse blu è la z, e andiamo a spostarci verso il meno di 12 mm più altri 9, ok, virgola 65, e lasciamo lì il nostro oggetto. Ora, ci dedichiamo alla sfera, la sfera creata di default è di 5 mm di raggio, la sfera su cui noi dobbiamo andare a lavorare è diametro 50, ossia raggio 25, ed eccola qua, difatti vedete che esce dal particolare. Ora, premo sul tasto fusion, ctrl tastiera, premo col tasto sinistro del mouse su sfera, e faccio sottrazione di forme. Ecco che noi abbiamo il nostro oggetto, oggetto che noi possiamo, se vogliamo, riportare in z più di 21,65, cioè di quanto abbiamo tolto prima, per averlo esattamente in corrispondenza dell'origine degli assi, in questo caso direi che poco ci importa. Come vedete, su questo oggetto sono presenti le linee di costruzione dei solidi precedenti, è il caso di andarle a toglierle. Per toglierle, si va sull'icona Refine, e la false la si trasforma in true. Guardate questa linea. Ecco che spariscono le linee di costruzione dei solidi precedenti. Ora, una cosa carina da fare, è anche andare a fare quello che faremo su una macchina utensile, ossia prendere gli spigoli, e arrotondarli, o rompergli lo spigolo vivo. Guardate questo tastino. Smussa gli spigoli selezionati di una forma. Allora, l'entità degli smussi sarà di due decimi, ed ecco che io qua vado a portare la lunghezza dello smusso a due decimi. Gli spigoli, posso selezionarli qua, 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 e qua, e qua, però vedete che li seleziona tutti, oppure posso selezionarli con il tasto sinistro del mouse, e il tasto CTRL premuto, 1, 2, 3, questi sono gli spigoli che io volevo andare a rompere. Ok, modifica, annulla, cosa abbiamo combinato? Allora, andiamo a selezionare gli spigoli, 1, 2, e 3, e andiamo a modificare. Ah, ok, devo aver premuto un tasto errato. ecco che noi abbiamo i nostri spigoli arrotondati a due decimi. Tutte le volte che lui fa un lavoro, cambia nome alla forma in base al lavoro fatto. Alla fine, quando abbiamo terminato la nostra forma, col tasto F2, o tasto destro, e rinomina, possiamo chiamare la nostra forma particolare numero 3, in modo tale da avere la certezza che quando andremo a richiamarla, verrà chiamata particolare numero 3, e anche nell'insieme non andremo a confonderlo durante la lavorazione. Altra cosa interessante che si può fare quando si fa un particolare che poi andrà inserito nell'insieme, tasto destro del mouse, aspetto, questo è un prodotto, andiamo a vederlo, non parla del materiale, comunque andiamo a vederli insieme, i suoi colori, vedete, di un bel grigio cromato. Ok. Allora, anche noi, possiamo dirgli materiale, cromo, colore e forma, e chiudi. Vedete che, comincia ad avere anche, un aspetto estetico, come vogliamo noi, poi non lo possiamo fare di plastico, lo possiamo fare di tutti i colori che vogliamo, quindi ricordatevi, che selezionando un oggetto e andando in aspetto, potete cambiargli tutte le qualità, potete farlo viola, rosso, verde, tutte le qualità che volete. ecco che abbiamo fatto, ecco che abbiamo fatto, semplicemente, con sottrazione e addizione di solidi, il primo particolare del nostro insieme. io, come fermo, non voglio fare dei tutorial troppo lunghi, spero sia stato di vostro interesse, per seguirlo, se non lo avete fatto, fatelo sempre, dopo esservi stampato il disegno, altrimenti sarà dura seguire, il lavoro, alla fine potete metterlo in vista isometrica, ingrandire al massimo, e salvare. perfetto, spero sia stato di vostro interesse, tutto quanto fatto in questo video, se vi è piaciuto come sempre, mettetemi un like, e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie mille e buona serata a tutti.